no ma tanta gente non è venuta per il tempo è quelli che vengono da lontano lontano e che noi siamo lontano ma neanche più di tanto quelli che arrivano non lo so da toscana dall'emilia romagna per venire qua non è un amico lui è il mister nazista la nostra nazista giralo giralo la giornata sembra buona si cambia tanto non è venuta a passione e poi la mia carneta è la leggeria ma non è un tipo di persone ma non volete ma non ho mauro sei dovuta andare No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.